Forse, forse sono quello, forse sono quello vero, ma così mi fregate già le cose? No, in questo momento stavo seguendo un altro di noi, ma non so chi era, perché non ho visto il nome, quindi mi sto seguendo Ehi! Allora, sono qua Dov'è la zona dove dobbiamo andare? Abbiamo già la new qua, ma nessuno è andato di sopra, quindi andiamo a vedere di... Tenere d'occhio le situazioni di sopra, di sotto Mai che mi confondo, sempre di sopra, di sotto, di sopra Fatemi andare a vedere di sopra No, grazie, non ho voglia di essere bolato questa volta Dimmi che non è uscito, dimmi che non è uscito, dimmi che non è uscito, dimmi che non è uscito Ok, non è uscito Let's go Ok, quindi siamo fortunati, non c'è l'ebola Siamo fortunati, non c'è l'ebola Però, però, e ricordiamoci che ci sono i cagnolini No, io vi consiglierei di camminare, ragazzi Vi consiglierei di camminare Vi consiglierei di camminare Sapete che vi consiglierei di camminare qua, vero? Che è una zona un po' brutta? Sì, è la più brutta Ehi, io cammino Fermi voi! Fermi! Fermi lì, fermi lì Fermi lì Fermi Siete in arresto Oh, grazie Appunto Eeeh, prima vi arresto Prima vi devo arrestare Fermo Dottore, prenda questa carta Fermo lì Fermo lì Fermo lì Fermo lì Oh, cazzo Aaaaaah Ah, sei una persona Orribile Allora, ho un patteggiamento con il cane Noi gli diamo dei proiettili E lui in cambio muore No, no, teaming no Ma voglio fare un annuncio Dal coso I caos sono qui E soprattutto sono venuti a salvare I class D in questo preciso momento Quindi tutti i class D che sono presenti E ancora vivi E non sono stati morse al culo dal cane Per piacere si presentino al piano di sopra Per il resto Al signor cane Vorremmo patteggiare La cosa che dobbiamo dire è 100 proiettili a lei E in cambio lei muore Cioè noi le regaliamo 100 proiettili E lei muore Quindi che le dice Ah, sì È vero Vogliamo il suo scalpo Anzi, no In realtà direttamente l'intera testa Da poter appendere al nostro cammino di Natale Per Natale Grazie E arrivederci Ok, possiamo andare Non va bene il patto Non va bene Cazzo, pensavo fosse il cane Madonna santa Me lo stavo facendo sotto E non è che ne siamo fuori Oh shit Mi metto nell'angolino E sto fermo È il cane, è vero Ok Dobbiamo andare di sotto Dobbiamo andare di sotto Salvare gli altri Play Classi D Se ce ne sono ancora No, io non è Shhh Bella per te Ti ho vista Non esistono Non esistono Non esistono Da questa parte Io capirei però Spero Io vado da questa parte No, no, perché facciamo adesso la mia Facciamo la mia tattica Guarda quella mia tattica Camperare Camperare Vai giochiamo No, no, no No, dai Sempre me per primo Overlight In merda Over, over Ho una domanda per te Perché continua a mazzare sempre per primo E quando sei un SCP La piccola domanda Basta Uccidi sempre Solo primo me Poi basta Ehi Vieni con noi Vieni con me se vuoi vivere Vieni con me se vuoi vivere Merda Sì, no Perché quegli altri Se non c'è detto E non mi danno Le robe Quindi chiudi qua Oh, grazie Grazie Vabbè Chiudiamo prima che arrivino Brute persone Andiamo Let's go Let's go Vai Let's go No, ehi Dai Ah ma ecco Ma Cioè ci chiudi Il portone in faccia E poi dopo Vieni a recuperarci Chi è che l'ha chiuso Ehi Qui Prima si chiudi L'ascensore in faccia E poi dopo Dici dove siete Cane 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 Granata 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 Non è me Tu Tu cosa si fai qua Ah, sei imprigionato Vieni con me Sei imprigionato Vieni No, non sei imprigionato Vieni qua Cosa faccio di questo Classe D Cosa ne faccio di questo Classe D Cosa ne faccio L'uccido o non l'uccido Salve In questo momento Mi trovo qui In questa zona Pronto per morire Perché solo So già che verrò Pappato dal cane Perché qua sopra La mia testa Sento rumori Molesti Quindi Visto che sto per morire Fra poco Voglio subito dire Queste parole Lascio tutti i miei averi A Non so ancora Chi a lasciare Vabbè Lascio i miei averi Al mio gatto E E niente Quindi Il mio canale Lo lascerò lì Morto E Seconda e ultima cosa Grazie a tutti Per avermi seguito E Niente La mia morte Sarà molto vana Perché In questo momento Se qualcuno ha voglia Di veniremi a salvare Perché il cane Si trova proprio Vicinissimo All'intercom Quindi venite subito A saltare questo cane Prima che io muoia Grazie Ah Il cane è morto? È morto il cane? Dov'è il cagnolino? Dov'è il cane Bao Bao? Ehi cane Bao Bao Vieni qua Ciao cane Bao Bao Me ne vado Perché ti voglio Ah Che è gentile Visto quel cane è gentile No no Fuori dalle palle Bastardi Tutti lì eh No Ti ho detto Di nasconderti Perché Non ti sei nascosto Allorica Gosto Allora Pag South Di nasconderti Allora Di nasconderti Du da Di nasconderti Dare Di nasconderti Nah